Ci troviamo di fronte a un organismo che imita le altre forme viventi e le imita perfettamente. Questa cosa ha attaccato i nostri cani, ha tentato di digerirli, di assimilarli. E nel frattempo ha tentato di plasmarsi in modo da imitarli. Questo, per esempio, non è un cane. È un'imitazione. L'abbiamo preso prima che avessi il tempo di finire. Finire cosa? Finire di imitare questi cani. Buono. Buono. Ecco. Buono. Clark. Sì? Di un po', hai notato qualcosa di strano in questo cane, niente di niente. È strano? No. Che ci faceva in sala ritrovo? Non lo so. Era tutto il giorno che girava per il campo. Vorresti dirmi che il cane non è stato messo nel canile fino a ieri sera? Esatto. Quanto tempo sei stato solo con quel cane? Non lo saprei. Un'ora. Un'ora e mezza a buttarsi. Ma perché cavolo mi guardi in quel modo? Non lo so. Cosa? No, niente. Non c'è proprio niente. Assolutamente niente. Non c'è proprio niente. Grazie a tutti.